Corri, raccogli la base, ed il pubblico corre con te, non sei solo nel grande diamante, corre il cuore, la gente e le sport. Un saluto a voi tutti, bentrovati, siamo di nuovo nello spazio che dedichiamo al softball insieme al nostro esperto Giorgio Turconi che va ad analizzarci prima ancora che interviste e immagini di partita un po' l'andazzo della giornata di sabato, primo settembre con l'Inter Girone, perché si chiama così? Si chiama Inter Girone perché il campionato di Serie A1 è organizzato con due gironi e al termine della regular season dei gironi le squadre del Girone A si incontrano con quelle del Girone B e poi si fa la classifica dei due gironi tenendo conto di questi scontri incrociati. L'Inter Girone è iniziato sabato primo settembre e diamo una scorsa veloce ai risultati, prima sconfitta stagionale per Bollate in casa dopo la di Bussolengo, ricordiamo, Bollate fresco vincitore della Coppa delle Coppe, Bussolengo fresco vincitore della Coppa dei Campioni Europea. Caronno giocava in casa con Castelfranco Veneto, vince agevolmente gara 1 ma poi commenteremo le immagini e la seconda non si gioca per la pioggia. A Forlì saranno due sconfitte forse annunciate vista la forza di Forlì, poi abbiamo un Monte Granaro Nuoro che si suddividono la posta, Parma Pianoro che si suddividono la posta e Collecchio Sestese, anche qui è un pareggio 1-1. Andiamo a vedere qualche immagine? Vediamo le immagini e commentiamo le immagini di... Tecnicamente cosa è successo? Qui siamo alla seconda parte della seconda ripresa per Caronno, Melanie Sheldon smorza la palla ma viene eliminata in prima e poi è il momento imbattuta di Susi Todeschini, è una rimbalzante che trova il Varco vicino al sacchetto di seconda e Todeschini è salva in prima. Poi è Giulia Bertani, gira vuoto Giulia Bertani, due eliminati e corridore in prima, quando si presenta nel box di battuta il nostro seconda base Beatrice Salvioni. Su questo lancio c'è la rubata di Todeschini, corridore in seconda, due eliminati e Beatrice Salvioni in battuta, ecco Todeschini sul sacchetto di seconda. è una rimbalzante che trova il Varco, spinge a casa Todeschini per il punto del vantaggio caronnese e sull'azione Salvioni prosegue per la seconda base sul tiro a casa dell'esterno centro. poi c'è una azione di rubata di Salvioni che viene colta prima dell'arrivo in base, è il terzo eliminato ma in questa seconda ripresa ecco che avendo Scaronno passa in vantaggio. Ci portiamo adesso alla prima parte della terza ripresa, in attacco Castelfranco Veneto, c'è una girata sul terzo strike, la palla non è trattenuta dal ricevitore e Giacometti a questo punto può correre salvo in prima, abbiamo ora in battuta Alessandra Accordi, l'attuale lanciatrice, è uno strike out ma sull'azione c'è l'avanzamento in seconda di Giacometti, poi sbrissa strike out ma ancora una rubata di Giacometti, corridore quindi a questo punto in terza base, il Castelfranco è vicino alla possibilità di pareggiare, Sara Avanzi, l'id-off di Castelfranco in battuta, viene concessa la base intenzionale, poi sul lancio successivo vedete c'è una rubata ritardata, la difesa non gioca sul corridore perché c'è in terza la possibilità del punto e alla fine la presa al volo non facilissima di Susi Todeschini all'esterno destro chiude questa ripresa, in effetti tornerà ancora a battere Cernecca perché l'arbitro chiama su questa azione la partenza anticipata del corridore in seconda e quindi viene eliminato il corridore in seconda. Siamo adesso alla prima parte della quarta ripresa, sempre sull'1-0 per la Revendo Scaronno ed è Teresa Cernecca che è tornata alla battuta con questa valida, poi Cheyenne Tarango piazza una valida a destra, corridori in prima e seconda ed è in battuta adesso Arsila Fuenmayor che per gli amici Denise, atleta che conosciamo bene, venezuelana, spesso è venuta a Caronno a trovare l'amica e compagna di nazionale Giurubi Alicart. Su questa palla non trattenuta dal ricevitore i corridori avanzano e a questo punto Argenis Blanco opta per la base intenzionale a Fuenmayor, zero eliminati e basi pieni, la situazione è veramente critica per il primo eliminato ecco uno strike out ottenuto da Michelle Floyd, la lanciatrice californiana della Revendo Scaronno che ha disputato i mondiali nelle file del Venezuela, ha il doppio passaporto comportandosi anche molto bene ed è un altro strike out ottenuto su Gamba, si sta pensando Floyd a risolvere questa situazione critica e anche con questo terzo strike out consecutivo su Giacometti la situazione di basi piene zero eliminati viene neutralizzata il punteggio è sempre 1 a 0 per la Revendo Scaronno e a questo punto arriviamo alla seconda parte della quinta ripresa sostituto battitore Chiara Ambrosi ed è una valida per Ambrosi, reduce quest'anno da un periodo in attività dovuto all'infortunio patito lo scorso anno, poi Beatrice Salvioni smorza la palla la difesa elimina il corridore in prima ma Ambrosi sull'azione giunge salva sul sacchetto di seconda ed è il turno di Giulia Marocchino, rimbalzante per lei, gioca in prima la difesa consentendo l'avanzamento di Ambrosi in terza corridore in terza, due sono gli eliminati e la difesa di Castelfranco dà la base intenzionale a Giurubi Alicart la fortissima atleta venezuelana interbase della Revendo Scaronno che sul lancio successivo ruba la seconda base, la difesa non gioca c'è il corridore in terza e non si vuole favorire una segnatura Elisa Odonini batte una valida e sono due i punti che entrano su questa azione terza valida consecutiva in questa gara di Elisa Odonini stagione di splendida forma per l'esterno centrocaronnese punteggio è ora sul 3-0 imbattuta Michelle Floyd rimbalzante per Michelle Floyd la difesa forse dimenticandosi che ci sono due eliminati gioca in seconda il tiro non è preciso, la presa è un po' incerta la palla va per terra Elisa Odonini velocissima gira per casa base facendo entrare il quarto punto con Michelle Floyd sul sacchetto di prima è il turno ora di Francesca Rossini una battuta per lei difesa fallosa, non trattiene la palla Rossini è salva sul sacchetto di prima e Floyd avanza in seconda base ecco Melanie Sheldon lunghissima battuta dietro gli esterni per Sheldon entra il punto di Floyd è un doppio per Sheldon in terza arriva Francesca Rossini punteggio che intanto si è fissato sul 5-0 in questa ripresa sono quattro i punti finora segnati dalla rivendo Scaronno poi è il turno di Susanna Todeschini una rimbalzante prende il prima base e tocca da solo il sacchetto per la terza eliminazione svolta in questa seconda parte della quinta ripresa per la partita con Caronno che prende decisamente il largo e arriviamo alla seconda parte della sesta ripresa battuta alta di Beatrice Salvioni incertezza dell'esterno la palla cade e Salvioni è salva in prima poi Giulia Marocchino batte una valida davanti all'esterno destro sull'azione Salvioni allunga fino alla terza corridori prime terza zero eliminati in battuta ora Giurubiali cartel Lidov-Caronnese piazza questa violenta battuta sull'esterno ed entra il punto di Beatrice Salvioni punto numero 6 per la rivendo Scaronno corridori in seconda e terza ed è Elisa Oddonini la mancina caronnese che piazza una rimbalzante non trattiene in seconda base e sull'azione ecco che entra il punto di Giulia Marocchino questo è il punto numero 6 e poi la battuta lunga di Michelle Floyd che spinge a casa Giurubiali cartel e la partita a questo punto termina sul punteggio di 7 a 0 siamo a domenica mattina e quindi dopo la vittoria di ieri contro Castelfranco intervettiamo Paola Sarassi gara 2 ieri sospesa per pioggia Paola allora come hai visto la squadra ieri contro Castelfranco? quella squadra ieri ha reagito molto bene ha iniziato un intergirone con una vittoria meritata e abbiamo visto anche una difesa e la prova lanciatori molto buona quindi siamo partiti col piede giusto domanda di prammatica anche se non si dovrebbe fare oggi arriva lo squadrone di Bussolengo cosa può fare Caronno? noi ci impegniamo al massimo per giocare bene soprattutto e poi affronteremo questo squadrone con le nostre potenzialità e potremo magari anche mettere un po' in difficoltà loro grazie Paola e auguri per la partita eccoci dunque in studio abbiamo rivissuto con Turconi i passi salienti della partita e poi la successiva intervista ma abbiamo un altro intergirone giusto? abbiamo la seconda giornata di intergirone domenica 2 settembre vediamo a questo punto i risultati Bollate regola abbastanza agevolmente Castelfranco 6-0-3-0 a Caronno arriva la corazzata Bussolengo che ripetiamo fresca campione d'Europa due partite tirate giocate molto bene da Caronno che arriva a portare al tie-break in gara 1 Bussolengo sull'1-1 poi nel finale Bussolengo prevale ma Revendos Caronno è andata veramente molto vicina al colpaccio è un'ottima gara anche la seconda dove Bussolengo riesce a prevalere con uno scarto minimo 2-0 e quindi si è visto un ottimo Caronno Forlì regola Nuoro anche qui abbastanza agevolmente 6-0-10-0 a Montegranaro Saronno vince gara 1 poi la seconda non viene disputata per Pioggia la Sestese vince due volte a Parma e Collecchio perde in casa due volte con Pianoro a questo punto possiamo anche guardare le classifiche dei due gironi nel girone A spicca la prima sconfitta stagionale di Bollate Revendos Caronno seconda con quattro partite di vantaggio verso Collecchio e questo fa ben sperare per l'accesso ai playoff mentre nel girone B anche qui Bussolengo e Forlì stabilmente alle prime posizioni mentre è molto più incerta la gara in fondo alla classifica anche qui Montegranaro e Castelfranco se la stanno vedendo per i play out anche con Elisa Odonini qualche parola in questo dopo partita dopo la partita con Bussolengo ricordiamo Elisa protagonista ieri sera col Castelfranco con tre valide decisive anche a te chiediamo come hai visto il Caronno in questo primo weekend di Intergirone 2018 Sicuramente ho visto una squadra molto competitiva la vittoria di ieri era quella importante veramente importante perché era l'obiettivo primario certo oggi onestamente un po' di rammarico rimane perché se avessimo portato a casa un'altra vittoria contro Bussolengo sicuramente sarebbe stato molto positivo per la classifica è una squadra molto forte ha vinto la Coppa e quindi sarebbe stato anche di aiuto a noi però essere arrivati all'ottavo inning e perdere solamente di due punti sicuramente ci ha fatto capire un po' a tutti che siamo molto competitivi e che ci siamo Siamo con Melanie Sheldon due parole le chiediamo anche a lei perché in questo weekend ci lascia torna negli Stati Uniti per il terzo anno di college dove vai quest'anno Melanie? Vado vicino a Boston l'università si chiama Humas Law ok allora due parole le chiediamo anche a te di questa tua stagione sei arrivata tardi e parti presto ma un commento sul Caronno del 2018 penso che siamo una squadra molto competitiva che possiamo assolutamente ambire i play-off e fare anche una bella figura ai play-off e spero che questo sarà quello che farà la squadra anche se io e anche Giulia siamo partite e penso che abbiamo fatto un buon campionato siamo arrivati a seconda dopo la stagione regolare e penso che questo fosse il nostro obiettivo e penso che possiamo mantenere quella posizione L'intervista ad Argenis Blanco il coach del Riavendo Scalano la facciamo non dopo la partita ma il martedì qui vedete il suo sfondo le bambine che si stanno preparando all'allenamento del Mini Argi mi sembra un weekend positivo certo Giorgio un weekend più che positivo specialmente sabato abbiamo raggiunto un obiettivo vincere una partita io penso che eravamo in grado di vincere anche la seconda perché la squadra era molto motivata e abbiamo giocato molto bene domenica Busolenco campione d'Europa viene a Caronno segna il primo punto Caronno le sta dietro e finisce il tie break una partita dove abbiamo avuto noi più possibilità di loro e mi dispiace tantissimo non raggiungere l'obiettivo perché quella partita costava no oro di più di oro ma senti adesso io direi che siamo partiti bene i risultati dagli altri campi ci sono favorevoli c'è un prossimo weekend difficile si va in trasferta Sesto Fiorentino e Pianoro cosa fa questo Caronno nella seconda giornata anzi terza e quarta giornata dell'Inter Girone un Caronno ambizioso però molto rispettoso delle altre squadre andiamo a cercare dei risultati positivi penso che tornare di là con due vittorie è fantastico tre è un gran obiettivo però andiamo con la umiltà partita a partita andiamo con la prima e vediamo che succede la seconda e la quarta un Caronno che va con grande ambizione che sta in forma una Floyd fantastica Odonini fantastica e Girubi Alicard tutta la squadra Beatrice Salvioni mi ha sorpreso tantissimo anche Giulia Marrocchino penso che la squadra è in forma proprio mentalmente cos'altro aggiungere Giorgio per chiudere allora per chiudere direi che poi mostriamo anche il cartello Girubi Alicard in questo momento è il battitore più forte della 1 come media battuta ma al quarto posto superando media 400 che è molto ragguardevole abbiamo Elisa Odonini come si diceva prima una stagione splendida per lei accenniamo alla prossimo turno Revendo Scaronno giocherà con la Sestese sabato per portarsi poi a Pianoro Bologna la domenica e vediamo un po' questa seconda giornata se servirà a chiarire definitivamente le posizioni per i playoff bene grazie allora Giorgio Turconi per quest'ulteriore esplorazione del mondo softball e a tutti voi per l'attenzione arrivederci a tutti Corri raccogli la base ed il pubblico corre con te non sei solo nei grandi diamante corre il cuore la gente e lo sport grazie a tutti